Ciao ragazzi, ben ritrovati, episodio speciale di It's Logo Time, come sapete collaboro con dei miei amici su un canale Twitch che si chiama Interno13 dove appunto, oltre a fare le dirette dove si parla di un po' di tutto film sport di qua, di là, di su, di giù porto anche una mia rubrica dove appunto parlo di loghi e niente, questo è il primo dove si parla del logo, della storia del logo Marvel spero possa piacervi, so che è un pochettino lungo, però mi auguro voi possiate, vogliate guardarlo fino alla fine vi lascio ovviamente tutti i link sotto in descrizione e niente, buona visione eccoci allora possiamo vedere questa sfilza di loghi esatto addirittura dal 1939 sì alcuni in realtà sono poco considerabili come veri e propri loghi della Marvel però li ho voluti comunque inserire in questa ok, riciteremo ricitiamo comunque benissimo, quindi si parte dal 1939 fino al 2012 eh, follo, a te la parola, 1939 allora, partiamo dagli albori quindi siamo a Manhattan nello stato di New York Manhattan e la nostra cara Marvel nasce ma nasce con un nome diverso quindi in realtà eh, all'inizio eh, Marvel non era Marvel ma era Timely Comics se non Timely Comics yes, indeed una cosa molto curiosa soprattutto per quanto riguarda il primo logo è che eh premettiamo che il personaggio principale della Timely Comics era un certo Capitano America quindi e infatti guarda caso e infatti guarda caso se posso mi viene da dire quello lì è uno scudo esatto e io da alto conoscitore della storia della Marvel non è vero però alcune cose le so sembra lo scudo che utilizzava all'inizio Captain America che infatti nasce tra l'altro come personaggio proprio della Timely Comics non della Marvel perché dopo lo ritireranno fuori vabbè questo è un altro discorso comunque sì e quindi è fatto apposta cioè alla forma allora diciamo che in questo caso probabilmente è ehm la l'azienda che ha poi creato lo scudo basandosi sul suo logo eh perché vabbè nel senso in quegli anni lì lo scudo comunque era un elemento eh abbastanza utilizzato per i loghi quindi comune esatto poi in realtà anche per le squadre sportive eh lo scudo è comunque molto utilizzato come eh come simbolo quindi in questo caso eh come possiamo vedere poi vabbè 1939 mega patriottismo americano eh cosa meglio di uno scudo che porta anche i colori della bandiera americana eh sì perciò in questo caso il contrario esatto non proprio al contrario c'ha il blu proprio al contrario però comunque ha dentro tutti i colori della bandiera americana ovvero il blu il bianco e il rosso anche se il rosso in minima parte però comunque è il logo che poi appunto ha ispirato eh lo scudo di di Capitano America del Cap lo scudo del Cap è una variante completamente diversa poi quella che che c'è presente e che è presente anche nel primo film di Capitano America tra l'altro quindi vabbè eh aneddoti che comunque Timely Comics non penso che tutti la conoscano anzi diciamo vabbè per chi sa un po' per chi sa un po' della storia della Marvel si sa che dalle ceneri della Timely Comics viene cambiato nome però mi immagino il fruttore principale che si è avvicinato al mondo Marvel con i film probabilmente soprattutto nell'epoca moderna diciamo esatto probabilmente fino al logo degli anni 90 non sapeva dell'esistenza degli altri però no infatti andiamo avanti va bene andiamo avanti cosa succede eh succede che questo logo dura un bel po' tra l'altro lo usano per un bel po' esatto dura un bel po' eh poi l'azienda la Timely Comics fallisce cambia nome e diventa Atlas anche qua un altro simbolo spesso utilizzato ovvero il mondo il globo il globo che però va comunque a va ad unirsi molto bene a legarsi bene con il nome dell'azienda quindi Atlas che praticamente è Atlantide o comunque va a richiamare il Atlante Atlante scusa Atlante va a richiamare il nome della divinità Atlante che appunto sorreggeva il mondo che regge il mondo quindi ok un po' brutto se posso dire proprio la mia così sì un po' banale sincera cioè gusto assolutamente personale sì c'è un logo un po' del cavolo rispetto a quello precedente che comunque portava qualche significato in più questo qua vuoi il cambio di di gestione dell'azienda la rinominazione cambi societari interni che immagino ci siano stati comunque in quegli anni ha portato a un logo più utilizzabile sicuramente sui sui fumetti nell'ambito dell'editoria nell'ambito dell'editoria sembra proprio uno di quei classici loghi da editoria degli anni 50 esatto è proprio funzionale probabilmente esatto ma semplicemente perché i costi di gestione di un logo in bianco e nero sono ovviamente molto più bassi o comunque monocromatico perché in questo caso tu lo vedi bianco e nero ma probabilmente il bianco non c'era quindi probabilmente era soltanto nero con i bordi frosfondo esatto molto molto giornalaio passano otto anni esatto passano otto anni vedo dalla grafica e andiamo a a questo punto bollino esatto a questo punto cosa succede? succede che il nostro caro e amatissimo Stan Lee prende prende le redini già lui lavorava comunque dai tempi della Timely Comics lui era stato assunto se non ricordo male da suo zio che era il capo della Timely Comics se non ricordo male infatti lui lavorava lì dentro con il suo vero nome ma il suo nome da artista era Stan Lee quindi poi noi lo conosciamo tutti come Stan Lee ma non era il suo vero nome ok comunque passano otto anni Stan Lee diventa il caporedattore rinomina quindi rinomina l'azienda rinomina l'azienda che passa da Atlas a Marvel Marvel un nome che significa secondo te? meraviglia ok beh vedi si meraviglia prodigio quindi comunque un nome Excelsior oserei dire in onore esatto però sai magari Excelsior Comics non suonava così bene no? no era brutto veramente mentre mentre Marvel è un nome è un nome corto facile da ricordare breve ma intenso ecco mi vengono queste parole breve ma intenso è un nome decisamente conciso ma efficace conciso ma efficace soprattutto anche in questo caso come nel caso della Timely Comics ma a parte invertite cioè in quel caso era il disegno che andava a ricordare determinate cose in questo caso è il nome che ti porta a pensare ti evoca supereroi o comunque un mondo di fantasia meraviglioso meraviglioso e qua comunque inizia l'epopea Marvel quindi da qua partiamo con la storia vera e propria ufficiale insomma ufficiale di Marvel esatto Marvel Comics questo logo dura poco sì o almeno no andiamo avanti vediamo Reggioia inquadriamo quello successivo grazie sì allora andiamo al 1961 dove c'è un MC ah vabbè ma questo è un simbolino di quelli che si stampavano in piccolino esatto negli albi di fianco esatto infatti ci sono un paio di loghi assieme a questo qua che sono prettamente dei loghi presi dalla la classica scritta quello che c'era sopra a sinistra esatto con il prezzo la la casa editrice il numero del volume eccetera eccetera quindi quello del 61 quello del 71 e quello del 60 mi ricordo a sinistra ce n'è un altro esatto questo qua del 63 sono da prendere un po' sono quelli da albi certo esatto da albo proprio andando avanti Marvel soprattutto negli anni nella golden age così chiamata golden age inizia inizia ad essere molto 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 importante a livello di fumetti e in questo caso è popolare poi soprattutto esatto diventa super popolare quindi oso dire tanto da potersi permettere di mettere le facce proprio direttamente in un logo esatto cosa che dico bene sì anche perché è una cosa obiettivamente molto strana perché di solito ce n'è una se va bene o comunque è una faccia stilizzata in questo caso invece sono proprio i disegni delle facce dei principali supereroi americani della Marvel quindi abbiamo Thor abbiamo Thor non è proprio americano però abbiamo Iron Man abbiamo Capitano America abbiamo Devil hanno messo tutte queste faccine che obiettivamente in un logo attuale vedo Namor la cosa esatto la torch umana sì hanno inserito per probabilmente per far riconoscere ulteriormente il loro marchio cioè su questo roister di personaggi quindi esatto esatto perché comunque diciamo che se non tutti ma alcuni sono riconoscibili e erano anche riconoscibili anche a grandezza ridotta quindi la maschera di Iron Man anche se la vedo piccola so che quel rosso e quel giallo sono sicuro che quello è Iron Man e abbiamo toppato una roba e giustamente dalla chat ci correggono e grazie mille Peter Wavehole perché in realtà con Marvel che nasce con i Fantastici 4 comincia la Silver Age dei fumetti noi abbiamo detto forse una cavolata abbiamo detto Golden Age quando in realtà era la Silver nel caso Peter aggiustaci il tiro sì 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 no comunque chiaramente scusa non siamo super conoscitori ok comunque molto complesso questo come logo anzi fin troppo carico non molto fluibile l'evoluzione è chiaramente quella di eliminare le cose superflue come si fa sempre in questi casi di solito di solito va sempre a finire così un logo troppo complicato viene ridotto l'83 quello attuale cioè togli il comics group in realtà sì sì il carattere il font esatto da quest'anno in poi in realtà a parte vabbè chiaramente qualche modifica estetica ma penso che sia palese a tutti ma il font rimane pressoché invariato sì magari le lettere più vicine cambia il colore non è più nero ma diventa bianco con il fondo rosso eccetera eccetera però da qua in poi però il font è questo da qua in poi il logo obiettivamente ha delle semplici non dico semplici perché le modifiche non sono mai semplici perché rendere un logo iconico non è mai facile anzi è una cosa molto difficile da fare esatto e in questo caso hanno voluto beh dopo l'aborto degli anni sessanta dove c'erano tutte le faccine messe lì a caso così hanno deciso di semplificare ancora di più probabilmente anche in questo caso ci sarà una nuova dirigenza perché di solito quando ci sono cambiamenti così drastici tante volte tante volte cambio curiosità vai no scusami è che notavo che nel 71 visto che ci stai facendo vedere anche quelle altre grafiche di cui parlavamo prima cioè il logo dell'83 per assurdo assomiglia molto di più alla grafica quella lì del 71 quindi quella che già in effetti utilizzavano sugli albi sì perché lì sopra c'è scritto Marvel Comics Group e non hanno fatto nient'altro che scriverlo per intero esatto non hanno fatto altro che prendere la scritta Marvel e farla come Comics Group e basta esatto ce ne laviamo le mani va bene così per noi 87 ah quindi tolgono Comics Group esatto praticamente e decidono di lasciare quello che è più importante quindi certo in questo caso ma come succede anche in come è successo anche in tante altre aziende come come può essere Apple perché all'inizio Apple era Apple Inc ok poi a una certa hanno detto a noi che lo togli esatto poi hanno tolto anche Apple non serve capito loro hanno tolto tutto perché hanno un simbolo che gli fa riconoscere in questo caso il simbolo di Marvel è la scritta Marvel quindi in questo caso non puoi togliere la scritta però puoi togliere tutto il resto che è superfluo così che è quello che quindi hanno fatto qui nell'87 esatto perché il fonte è banalmente molto simile a quello di qualche anno prima esatto il fonte è uguale a quello di qualche anno prima solo che vabbè monocromatico quindi nero bianco dipende chiaramente dalla base dallo sfondo che ha però vabbè io l'ho messo nero in questo caso ma in realtà di solito quando un logo è nero è nero e anche bianco c'è sempre un'alternativa la doppia versione c'è sempre una doppia versione sono pochi log che possono le aziende che possono permettersi un logo univoco per tutto certo quindi poi di fruibilità esatto di fruibilità di visibilità soprattutto quindi già vedo che tre anni dopo aggiungono il corsivo quello che su Excel è il corsivo questo è l'Italic nel mondo della grafica è l'Italic quando è inclinato sì ok non lo sapevo benissimo ok in questo caso c'è poco da dire cambia il font ovviamente diventa un font molto più Mission Impossible quasi inclinato bello bello cicciottello bello eh gli anni 90 bravo esatto era quello che voleva arrivare sono proprio gli anni 90 esatto perché poi si arriva comunque sempre lì tante aziende negli anni decidono di cambiare il loro logo in base alla corrente artistica o grafica di quegli anni quindi anche adesso lo stiamo vedendo tante aziende si stanno portando il loro logo ad essere un logo monocromatico e possibilmente anche piatto quindi senza più ombreggiature linee particolari si stanno tutti semplificando questo è il mood o effetti 3D esatto questo è il mood attuale in passato era l'italic o comunque poi anche altre altre correnti che a breve vedremo sta di fatto comunque quello degli anni 90 era questa la corrente non si distacca sembra un po' più dinamica gli da in effetti quella roba un po' più moderna non so perché poi però l'effetto è questo esatto gli da quella marcetta in più che però ripeto la base da cui parte è la stessa c'è soltanto un cambio di font ma a livello grafico nulla di più esatto nulla di così impressionabile ecco mettiamola così andiamo a uno dei più conosciuti penso di Marvel altri 3 anni e cambiano idea con una roba super pop esatto così a guardarla mi viene da dire così decisamente super pop altra corrente 3 anni dopo arriva il pop eccoci qua la Marvel si fa trovare pronta a cambiare il proprio stile esatto subito rinnovare il logo per tanto sì e lasciami dire che tra l'altro è una pacchianata incredibile cioè almeno per sempre gusti personali ragazzi ci mancherebbe però questo è proprio comics proprio comics esatto beh quello che voleva rappresentare obiettivamente ce l'ha fatto in pieno sì sì nonostante ci sia comic sans dentro perché no guarda sai cos'è lo capisco però però lo vedo lo vedo comics però molto più teen in questo caso probabilmente nel 90 quello era quello era il trend esatto devi considerare anche l'anno in cui viene viene commercializzato le vendite a quali utenti ti stai rivolgendo no no assolutamente adesso è un po' più maturo e adulto rispetto agli anni 90 che effettivamente era il cinema gli ha dato tutta un'altra tutta un'altra dimensione spessore esatto comunque per parlare brevemente di questo di questo logo niente allora la scritta marvel torna ad essere quella del 1987 diventa rossa diventa rossa una M una M bella grande corposa sotto la scritta marvel con la scritta comics che vabbè marvel comics che è il nome dell'azienda due colori che vabbè vanno a contrasto molto uno con l'altro quindi il rosso e il giallo tra l'altro questo attualmente è il logo che marvel usa per per i prodotti vintage old school comunque chiamiamoli old school tutti i materiali e tutti i prodotti che vedi con questo logo qua sono considerati da marvel vintage quindi così hanno la loro però hanno la loro linea quindi viene usato tuttora questo viene usato tuttora come per esempio adidas fa con il trifoglio adidas originals che è una corrente separata da adidas in questo caso marvel comics è la parte vecchiotta piace altra curiosità questa dell'adidas che trovate nei video di follow sul canale it's logo time pam marchetta poi mi pari e tra l'altro mi sarebbe piaciuto di più quel marvel comics senza la scritta comics mettendogli soltanto la m sotto probabilmente mi sarebbe piaciuto però comics è quello che lo rende così iconico comics è quello che lo rende così iconico quindi in questo caso non posso dire l'unica cosa che a me non piace ma non mi piace in generale è il bordino nero che c'è su tutte le lettere ma questo è un gusto mio personale vabbè nel senso ok ok però niente da dire vabbè diamo un'accelerata andiamo a sette anni successivi per trovare quella che mi sembra essere praticamente quasi quella odierna quasi hai detto bene no quasi hai detto bene quasi infatti esatto non vedo perché adesso confrontarle guarda regia se me la zoom un attimo che vedo anche le altre più quelle più sotto cioè se me la scusa allargo un po' ecco perché se quella del 2000 facci caso con quella del 2012 cosa cambia oh my god guarda bene guarda bene aspetta che aspetta aspetta cosa che cos'è che ma che ci sono infatti la allora quello del 2000 sembra più compatta però non so se è una questione dell'immagine che magari di per sé è più piccola quindi mi trae in inganno no no è proprio più compatta la scritta sì è più compatta ma anche ci sono anche delle piccole modifiche sulle varie lettere cose proprio che non vedo sono dimmele ti prego perché allora per esempio per esempio la M vabbè è più stretta nel centro ovviamente nell'A il triangolino il buco dell'A è più bislungato la R è più stretta è così è proprio infinitesimale sì 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 sono infatti differenze proprio minuscole sono differenze minuscole che però se le noti lo capisci dice vai ok inutili cioè nel senso mi chiedo perché fare queste piccole modifiche però non lo so sinceramente ci sono degli studi evidentemente se l'hanno fatto un motivo ci sarà quindi probabilmente avranno passato anni a studiare come modificarlo perché per come quindi devo dire che quello attuale obiettivamente è quello fatto meglio quello realizzato meglio più pulito sì dai due colori due colori un rosso bello acceso che va comunque a ricordare un colore che ricorda tanto i supereroi perché tanti supereroi hanno il rosso come come colore principale ma principalmente per andare a c'è ancora c'è ancora del catto comunque in questi colori eh sì certo ma è chiaramente il fatto che sia un'azienda americana implica anche che tante volte influisce ci sia un richiamo al fatto che sono americani un'azienda che Grazie.